Benvenuti su fisioterapierubiera.com, portale di medicina e benessere. Il test di Klein si effettua per capire se il paziente soffre di insufficienza vertebrobasilare, cioè se la circolazione sanguigna verso il cervello è sufficiente. Il paziente si siede, la posizione della testa è in estensione e rotazione. In questa posizione il paziente dovrebbe rimanere a 15-20 secondi circa e dopo questo tempo si torna in posizione normale. Se nel frattempo il paziente sente un'instabilità, perdita di equilibrio o ha le vertigini, per esempio la stanza gira intorno a lui, significa che il test è positivo.